salve a tutti ragazzi ben ritrovati con il versi di elder ring allora ripartiamo da sta robina dalla chiesa ci dobbiamo girare sta zona vediamo un po allora c'è da salire la sopra innanzitutto queste praticamente sono tutte la pazzia ma qua sopra ma cazzo si sa che da qua non mi rompete di coglioni che io non vi dico niente rune del regno delle ombre 7 va bene sì ma secondo me qua ci sarà soltanto qualche boss secondario da basti e basta perché sennò che cazzo dalla parte di sopra sento topi poi c'è da la strada senziero del bosco c'era quest'altra zona dove c'era quel mostro di merda che non si può battere quello svegliato io qua non vedo nient'altro da qui mi sa che siamo venuti si la c'è la strada dove c'è quello quindi ora vediamo da quest'altra parte poi c'è da andare dal lato dalla chiesa qua non c'erano i topastri si quindi qua ci siamo già stati va bene così quindi fa una cosa la ritorna qua un attimo ok e andiamo dalla parte di sotto da qua per questo po grande ecco 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 li mortacci su avanti ok ok va bene così e non c'è nient'altro lo troviamo davanti figlio di cussana ma guarda quanti danni ci fanno però comunque è pazzesco c'è un topo che ci fa tutti sti cazzi di danni ma dai ma poi è pieno di sti cazzi di topo perché c'è il boss è un topo mega gigante se ne vai a fangulo guarda qua guarda stota di merda se a momenti mi fa secco c'è un altro gigante insetto bruma lanterna a sopra c'è qualcos'altro ora cazzo da dove cazzo si sale però qua no tacci tua non si sale da qua cioè se mi chiamava il cavallo si no no qua c'è qualcos'altro pure altri topi e guarda tua grazie ma mi hanno ritornato e chiale quindi qua questo andiamo su secondo me la strada è dove c'è quel mostro di merda poi le dobbiamo ritornare tutte indietro vabbè ma mi talo trasporto quindi mi rifaccio tutta l'altra da piedi qua e continuiamo quindi altri topi ma c'è quanti cazzo sono pieno non c'è resta e stiamo ritornando praticamente indietro abbiamo fatto il giro giratone topi di là eh sì siamo ritornati qua da quello quindi la strada è là non c'è verso questo lo dobbiamo evitare non si può ammazzare nemmeno se lo prendo dicero un vecchio da dietro eh come cazzo si deve fare mo si gira dai gira di cazzo eh ma va vai avanti va fate un affanculo via 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 ce lo sta e c'era qualcuno eh cazzo ce n'è un altro là eh ma aspetta eh cos'è questo figlio di putt' hai capito l'ho fatto andare là non c'è un cazzo non c'è un cazzo via 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 hai capito quello l'ha richiamato là e non ci ha visto cazzo cazzo di roba di merda ah ma io ecco perché non mi curavo ok spada di merda bene bene Ehm... Aspetta un attimo. Io non ho capito qua che cazzo dobbiamo fare se stiamo andando alla cieca. Nebbia. Da parte di Siavra pure c'è la strada no? E vediamo, è immensa pure sta aria. No ma non ci vado da qua dai. Da qui non vai da nessuna parte ma ritorna giù Gratos. La nebbia, la nebbia, oh cazzo. Lo sta. Eccolo, eccolo, no. No, non mi rompa le coglioni, vai. Corri, 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 corri. No, ci ha ammazzato, figlio di puttana. E' macrevisto, al buio, la non si beve, ah c'è la strada di marica. Stada di marica. E allora. Sto qua. Allora scusate un attimo ragazzi. Stiamo avanti. Allora, mo' quella. Ma cazzo sono le anime mo'. Andor sta? E' la. Figlio di puttana. Ma come cazzo ha fatto a vedermi? Non c'è una cosa di quelle che l'ha. E cristo santo, no. Corri, 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 corri. Non ve lo un cazzo. Ma noi corriamo alla cesta. Pollia. Leva di cazzo. No, di nuovo. Ma vaffanculo. Come cazzo ha fatto? Non vedo niente. 250 mila anime. Ma come cazzo devo fare mo'. Aspettate un attimo ragazzi. Aspettate un attimo ragazzi. Conor dell'angrienta. Ma ci. Si. Ma. Allora, andiamo avanti. Sì, ora valla a recuperare le anime. Cazzo. Allora, lei è là. Ma è ferma, non l'ho capita questa cosa. Ma è già una puttana. Le anime mi sa che ce ne siamo giocate. C'è poco da fare. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Ma devo sapere dove cazzo siamo o dove cazzo devo andare. Ragazzi, è impressionante. mannaggia la puttana rieva ma per forza da qua eh non si può la nebbia è sparita è la nebbia sta camminando cammina cammina figlio di puttana via 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 che forza già l'abbiamo fatta la foschia vedete che non c'è più come cazzo è possibile prima non si vedeva un cazzo vabbè meglio così non lo so non lo voglio manco sapere cosa sa che si è tolta la nebbia e noi siamo riusciti a passare ok puttana Eva 2000 e chi è morto che c'è da sopra chi cazzo sei non è che sono quei cazzo di mostri là qua c'è i topi questi cazzo di topi di merda la sopra c'erano quegli altri aspetta 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 perla questo qua è vabbè questo questo si ammazza questo si ammazza facile e quello è la sopra qua c'è un altro io non capisco perché quelle mostri di merda non li ammazzo così qua c'è un cazzo cazzo siamo venuti a fare qua c'è niente vabbè quindi mo allora dobbiamo andare alla parte di sopra dove ci sono quegli altri ma da dove da dove cazzo si sale mamma mia che posto tetro da qua ma un salvataggio non ho niente cioè qua stiamo arrivando cioè come cazzo è possibile che in tutto sto tragitto non c'è un'altra grazia un altro cazzo di falò uovo dormiente là c'è un altro cazzo di cose di quella no vabbè in tutto sto casino non c'è un altro falò o è quello là sotto ma no eccolo 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 là dai 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 fammi salvare vediamo dove siamo cascate e ma dobbiamo andare qua dentro non cazzo qua non cazzo non cazzo andiamo a parlarne che cazzo dobbiamo andare ma tu mi segui che vuoi morire andiamo la parte qua è sopra ah c'è qualcos'altro si ma il giardario vabbè me lo schiaffo due palle oh e qua non c'è niente per cercare qua niente poi c'è da trovare il boss dell'aria avendo preso il salvataggio qua da dove cazzo dobbiamo poter seguire ah non c'è una grotta non c'è niente ma la sopra la sopra no la ragazzo no le l'acqua attacci i vostri al culo a sto topo di merda che cazzo sto a salire dove cazzo arriviamo? non si sa ma dov'è sto topo che mi c'è? dai che mi ritorna la boccetta dai si ma non è manco qua la strada ma porca di quella puttana porca di quella puttana ma da dove cazzo dobbiamo andare? ah la sopra c'è un'altra cosa c'è sta puttana cazzo mi ha visto ma guarda tu sta bastarda mi ha visto dalla sotto ho capito ma un altro là no mi devo buttare per forti non sta ma è là là è girato ma sbaffanculo da Cristo lei va da cazzo no mi stavo per curare levati guardi 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 cazzo ciao e niente quando ti prende ti ammazza del puttana e cristo santo è ora qua dove cazzo siamo noi ma guarda tu che zona di merda puttana leva dove sono? minchia ma arrivaci là però aspetta io sono andato alla parte di sopra eccola là quindi da sotto ah guarda ma qua io ci sono già avvenuto gira gira di cazzo no grazie bravo no ma vaffanculo ma vitto siamo morti ma vittのは no ma vitti vitteggi ma vitteggi fammi vedere dove cazzo sono qua madonna puttana qua ce ne sono altri dai cazzo scappa da là appena ora non ci ha preso un'altra cosa fammi salvare fammi salvare riposto ti riposto ah ma c'è lui non mi fa riposare però ah a posto mamma che culo che abbiamo avuto mamma che culo non lo so manco io come cazzo l'ho fatto boschi abissali sentiero del bosco cimitero questa questa fin da me siamo arrivati qua e ho capito ma da qua adesso e qua ritorno indietro io non ho ci ha capito un cazzo nasconditi e non fare rumore ah io da qua sono passato e come cazzo è che non l'ho vista io quella c'è raga ma possibile fondo della possibile che qua abbiamo fatto tutto non c'è altro impossibile attende con calma un momento giusto combattere fuori discussione vedete non si possono battere ok boh ah no no ma ci sono queste altre due vediamo c'è minchia più di eh vabbè ma mi raga no vai va vabbè vabbè basta si va bene ma non c'è un cazzo però ci sono tutte cose che non c'entrano un cazzo se io non trovo la strada per... ci deve essere un boss aria qua è impossibile ragazzi che io sono arrivato fino a qua per prendere solo degli oggetti del cazzo Dio santo e niente qua non c'è un cazzo nemmeno niente la beata mince pure qua mince cimitero desolato cimitero del bosco le rovine questo qua sotto cascate frammentate non ho la più pallida idea io non ho la più pallida idea dove cazzo devo andare non non ho la più pallida idea ragazzi dunque 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 allora se da qua mi fai tornare di qua mince la puttana cioè sto andando in confusione perché non ti non riesci ad orientare c'è un orientamento zero proprio non mi riesco ad orientare dove cazzo dobbiamo dove siamo siamo ritornati qua alla nebbia dove c'era quella no e scusa se io da qua non ci vado perché già ci sono stato infatti qua c'è la statua di marica però se c'è la statua di marica di solito è perché poi c'è l'aria boss qua io non vedo un cazzo e qua ci riporta qua ma l'abbiamo fatto ancora tu la tua di marica va bene ora c'è di nuovo la poschia qui c'è quella puttana ragazzo è è qua in zona già la sento vicina la starda ma la vedo più la voloccata dove cazzo sei non la vedo ecco dai e non cammina sto bastardo o bastarda chiunque tu sia e mo cammina ma vaffanculo va ma possibile mai che non ti posso ammazzare niente non ti posso ammazzare ma è incredibile Cristo Santo magari forse vedi quando si è allargata la testa quando magari la testa non è allargata ma tanto va a pure di rifarlo qua ma la nebbia se ne va infatti già se ne è andata mi sono stato fermo non mi deve dove stai? è là è là è là le mortacce su è là 4-4 la filamo ma c'è un'altra cosa da raccata ma c'è un'altra cosa da raccata andamole qua ma c'è un'altra cosa da raccata ma c'è un'altra cosa da raccata ma c'è un'altra cosa da raccata ritornando sempre alla alle cascate la mi ricordo e io non ho capito quindi abbiamo finito qua abbiamo già la siamo girata tutta non c'è posto non c'è niente me ne posso andare a me mi sembra incredibile che non c'è n'aria boss qua no là ci sono quelli in là nella parte di sopra di là non c'è andato aspetta 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 la sopra e là ci sono andato da quelli che sta lì cazzo ci ha cascato no c'è venuto ho ammazzato il gufo ma sopra che cazzo è là sopra da dove cazzo si va come cazzo si arriva là c'è un'altra strada là qua ci ammazziamo qua ci sono sti figli di puttana che già avevamo fatti qua l'avevamo fatto pure e questa cascata qua sopra è già avvenuto pure qua facciamo state pure e non c'è un cazzo una cazza è parata illusoria tanca di quella assurda ragazzi è assurda sta cosa solo topi 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 allora la ci sono quelle c'era un'altra strada di sopra che si vedevano altri di quelle là allora da qua eccole da sopra li vede quelli da sopra là ci deve essere un'altra strada per arrivare là ma da dove come cazzo si sale qua sopra non c***o la cosa di merda allora qua eh ma non si sale ah ma non c***o aspetta ah queste le avevo già ammazzate ah no no non c***o aspetta qua si scende e la ci fa continuare di sotto non lo so prima di buttarmi voglio vedere la strada di qua sopra eccole là sopra quelli ok 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 ora siamo dalla parte proprio sopra e ma che c***o è una cosa vedo una casa che c***o è comunque non vediamo prima questa aria qua poi c***o è un salvataggio poi c***o è un salvataggio con parte il simbolo del salvataggio qua c'è un altro oggettario è lì c'è una specie di casa eccola allora dobbiamo andare lì moriamo qua va vai dobbiamo seguire quella cazzo di casa là la casa spregava che cazzo è un cartello qua dentro ci fa andare a forza si nella parte bassa oh oh tendo caro dove cazzo siamo allora c'è un altro testo di cazzo 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 e niente qua dobbiamo entrare dentro sta fortezza secondo me dobbiamo trovare l'ingresso e poi qua dentro sicuramente ci sarà il boss ma l'ho girata tutta cazzo 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 da cazzo cazzo Vattene ora! Canonica di Midra! Allietra a bocca! Sala della Canonica! E niente, mo ci salutiamo qua e cosa lo famo? Parla! Ti porgo venuto ospite sorpresa, mi raccomando prima di entrare tieni a mente le parole dell'illustre Mitra Non avvicinarti alla follia se non vuoi soccombere Hai capito? Va bene ragazzi, ce lo diamo qua perchè poi proseguiamo sicuramente da qua, vedi si? A parte che, vabbè, mo abbiamo salvato tutto Qua siamo entrati però I boschi abissali ce ne siamo fatti Fammi vedere un attimino qua fuori se c'era qualcos'altro Attorno attorno, non peraltro eh Non credo che sia altro Bene qua, no non c'è niente, dai A posto Sala della Canonica Sala della Canonica Un'altra area Che farà parte sempre di sti boschi di merda però Allora, qua fuori non c'è niente Lo siamo girati tutto, dai Ah, la c'è un'altra testa di cazzo E va bene, a posto Ok, lo siamo fatto tutto, dai E gira e gira, sempre qua siamo Canonica di Mitra Niente ragazzi, ci salutiamo qua, ci vediamo alla prossima E vediamo sta Canonica Saluto a tutti Grazie.